Settima vittoria consecutiva per l'Unibasket Amatori Pescara che al pala Ternogas supera 82 a 67 Senigallia e il traguardo Final 8 è davvero ad un passo, Presidente Di Fabio, questa squadra non smette più di stupire. Vittoria convincente, in settimana abbiamo preparato molto bene questa partita, la temiamo molto, devo dire risultato ottimale, abbiamo dovuto a 67 punti, una squadra che ne fa molti di più essendo padrone della partita dal primo all'ultimo minuto. 20 di Carpanzano, 5 uomini in doppia cifra, squadra che, perdonatemi il gioco di parole, gioca da squadra. Si conferma la solita variabile che ogni partita riusciamo a trovare uno barra due giocatori che riescono a trascinare la squadra e questo chiaramente va a tutto merito del gruppo. Nota negativa, a mio giudizio, anzi molto negativa, il pubblico, numeri bassi, Presidente, la squadra merita di più. Oggettivamente lo zoccolo duro ogni domenica, in caso di trasferta, conferma la presenza. Ovviamente dovremmo lavorare su quelli che vogliamo far avvicinare. Certo, una squadra che vince sette partite di fila, che sui giornali, sulle prime pagine non, dei giornali di basket, il risultato di oggi, le presenze di oggi sono, direi, oggettivamente scadenti. Presidente, un'ultima battuta per chiudere, perché nelle nostre trasmissioni lei è il Presidente Marchesani, Presidente dell'Europa Vinichietti, vi scambiate sempre attestati di stima reciproca. Insomma, è importante avere anche una sinergia tra Presidenti? Ma questa domanda corrona un po' un sogno che è covo da tanti anni, cioè quello di portare avanti un progetto in cui anche le società, i Presidenti, e gli interi dirigenti possano essere, diciamo, associati e consociati. In questo momento credo di avere dei numeri per poter lanciare questo progetto. Siamo a oltre 20 adesioni di società regionali e non. Nei prossimi giorni o magari nella prima settimana di gennaio cercheremo e cercherò di esternare il mio progetto. L'ultima Presidente, la domenica sportiva la sta guardando, in studio da noi c'è il coach Stefano Raiola. Dieci secondi per un messaggio a Stefano. Finalmente è tornato il sorriso. Bravo coach, che dire. Ogni settimana c'è qualcosa in più. Credo che la tua mano si veda negli allenamenti, ma soprattutto in partita. Quindi andiamo avanti così che nessun obiettivo ci è precluso.